E' diffondere la cultura della pace in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Noi dobbiamo andare in profondità, soprattutto sul tema dei conflitti. Oggi si va in tribunale per le cose più... per le meschinità, insomma, proprio perché c'è un'assoluta incapacità di dialogo. Quindi, ecco, capire il senso profondo del dialogo, andare in profondità sui temi, per esempio, della nuova cittadinanza mondiale, sui temi della nuova economia. Noi abbiamo figure molto, molto qualificate. Il professor Roberto Mancini, Giovanna Cipolari del CVM, che ha 40 anni di esperienza. Cioè, noi vorremmo entrare in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione. Il presidente Mastro Vincenzo è sempre molto carino, molto attento. Vorremmo andare in profondità e entrare in questi temi su tutte le scuole di ogni ordine e grado.